Grazie e se permettete ringrazio ovviamente tutti i militanti che hanno lavorato nelle diverse assemblee a portare le proposte, alle persone che hanno lavorato ai tavoli, ai colleghi capi di partimento Fabio Rizzi, Vagna Gava e Patrizia Bisinella che hanno seguito questo tavolo. Io ovviamente invito tutti a leggere la mozione perché ovviamente va e coglie dei punti in modo più approfondito, ma in questo breve intervento vorrei solamente trattare i punti focali che hanno indirizzato l'azione nel scrivere questa mozione da parte di chi l'ha presentata. Ebbene, come diceva Roberto Calderoli, il nostro tavolo riguardava lavoro, previdenza, salute, politiche famiglie, politiche per i giovani all'interno della macro regione. Noi abbiamo voluto puntare per quanto riguarda ad esempio il lavoro su un punto che sta distruggendo le nostre imprese e non dà possibilità occupazionale ai nostri lavoratori, ovvero il costo del lavoro. E diciamo questo, badate bene, non come la solita banalità che dicono gli altri partiti riduciamo i costi, con quali soldi non si sa. Noi invece diciamo questo con chiarezza perché con le nostre risorse, senza chiedere nulla a nessuno, questa volta non chiediamo ma pretendiamo che le nostre imprese possano abbassare in modo considerevole il costo del lavoro. Non è più accettabile che nel nostro paese ci sia un total tax rate del 68,3% in Slovenia del 34%, in Austria del 50%. Come possono produrre e dare occupazione le nostre imprese? Noi vogliamo rilanciare le nostre imprese nel mercato internazionale ed anche rilanciare i consumi interni perché lasciando più soldi in busta paga ai nostri lavoratori possiamo rilanciare il mercato e permettere alle nostre imprese di produrre e di offrire possibilità occupazionali ai nostri giovani che ormai si è raggiunto grazie ai governi che sono succeduti, Monti eletta il 40% di disoccupazione giovanile. Ma non solo, noi diciamo anche con chiarezza in questa mozione di abolire la riforma Fornero. Noi vogliamo cancellare quella riforma che ha creato Esodati e che ha voluto far pagare con i soldi dei lavoratori privati i buchi dell'ImpDAP. Dobbiamo dirlo con chiarezza che hanno scippato i soldi dei nostri lavoratori per pagare i buchi del pubblico perché nell'ImpDAP sono gli enti pubblici che non pagavano i contributi per i propri dipendenti. Il Nord non ci sta più e non ci stiamo. a pagare gli sprechi degli enti pubblici del meridione che vorrebbero pagarli mettendo le mani nelle tasche dei nostri pensionati e dei nostri lavoratori. Vogliamo mettere in atto a tal proposito superare l'ente di previdenza nazionale e mettere in campo l'ente di previdenza della macro regione così ogni area del paese saprà quanti soldi è in tasca e potrà dare la giusta previdenza e assistenza ai propri cittadini. Basta pagare gli sprechi. Ma poi abbiamo trattato come dicevo la questione della sanità. Punto focale in quella è quello che ha ricordato anche Roberto Calderoli. Ovvero dobbiamo finalmente arrivare a mettere in campo i costi standard. Non è più accettabile che in Veneto e faccio l'esempio del Veneto l'assistenza sanitaria venga gestita in modo virtuoso. Faccio il classico esempio delle siringhe. Qui come sapete meglio di me una siringa viene pagata 0,04 euro. In Calabria 0,26 euro. Basta. Questo comporterebbe un risparmio annuo di 23 miliardi di euro. E allora non ci stiamo a dire che bisogna aumentare l'IVA, che bisogna rimettere l'IMU quando ci sono 23 miliardi di euro di sprechi. E quindi nelle emozioni punto focale in introduzione dei costi standard nella sanità. Non solo. Noi abbiamo ovviamente trattato anche le questioni della politica e della famiglia. Politiche della famiglia e dell'assistenza. E su questo abbiamo detto con chiarezza precedenza a residenti nelle misure socio assistenziale. Noi ogni anno paghiamo solo per l'assistenza di nomadi ed estracomunitari e questi escono dalle nostre tasche, principalmente dalle tasche dei cittadini del nord, 184 milioni di euro. Allora penso sia arrivato il momento, in particolar modo, in un momento di crisi economica, di dire prima la nostra gente. Ed è questo il messaggio forte che deve passare attraverso la macro regione. I punti fondamentali che coinvolgono la nostra gente. Dire viene prima la nostra gente. Tutti i passaggi che abbiamo fatto nelle emozioni si possono riassumere in questo. Che non è un concetto di esclusività, badate bene, ma di precedenza. Se un padre di famiglia deve avere a disposizione, o meglio a disposizione, solamente un piatto di minestra, noi diciamo basta che questo pasto di minestra venga portato soltanto ai vicini di casa. Prima deve essere dato ai nostri figli. Ed è questo, dunque, il nostro fondamentale. Dopo vi invito, io non so quanto tempo ancora a disposizione, penso poco, Presidente. Quanti minuti dovevi parlare tu? È stata una cosa confusa. Dai 7 ai 5, quindi... Hai abbondantemente sforato. Ho abbondantemente sforato. Però allora, se mi permette, il Presidente Giorgetti, io voglio soltanto chiedere ovviamente anche agli interventi che verranno su questo tema, se ci sono, di voler anche, se è necessario, fare le proposte, oppure di voler approfondire questi temi, perché è proprio dal lavoro, dal welfare, dal lavoro per i giovani, dal lavoro per i giovani, che passa il futuro della macroregione, perché è il nostro futuro. Grazie a tutti. Grazie. Allora, adesso Fabio Rizzi sulla sanità, che completa il...